Il camper contro la violenza di genere della Polizia di Stato è tornato a far tappa nel centro di Arezzo, in piazza Sai Jacopo. Prosegue infatti la campagna di prevenzione a contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle fasce più deboli, promossa dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato. Un'attività di informazione e prevenzione che nelle prime tre tappe ha già catalizzato l'attenzione di oltre 400 persone che si sono soffermate per chiedere maggiori informazioni sul tema. Le domande più comuni sono la finalità del progetto camper e l'interesse che suscita poi questa manifestazione nelle persone che ci chiedono quali sono i rimedi di legge al contrasto della violenza di genere. Chi sono le persone che si fermano da voi a questo campo? Varie e a dire il vero diverse da quelle che inizialmente potevo immaginare. Abbiamo rilevato un interesse forte anche del sesso maschile, non solo delle donne, un interesse che va tra i 40 e gli 80 anni in misura percentuale direi un 25% di giovani comprese fra i 16 e i 40. Ci sono stati alcuni casi di persone che hanno subito violenza di genere, alcune che hanno denunciato il fatto direttamente, altre invece che si sono riservate di ricontattarci ma che si sono dimostrate comunque interessate e sono sembrate felicemente impressionate sia dalla manifestazione sia dall'approccio che abbiamo avuto. Il presidio ha visto al fianco della Polizia di Stato uno psicologo della ASLA specializzato nella materia ed ovviamente l'associazione Pronto Donna da anni a sostegno delle donne vittime di violenza. Da gennaio ad agosto circa 120 donne si sono rivolte al nostro centro antiviolenza. Sono donne che ovviamente stanno subendo tuttora violenza di nazionalità prevalentemente italiana ma anche straniere. L'età media è dai 45-50 anni ma anche più giovani. Negli ultimi anni ho notato che c'è un livello di consapevolezza maggiore nelle donne che vengono al nostro centro. Probabilmente l'attività culturale è utile in questo senso.